cari aspettatori e cari ascoltatori scusate oggi ho fatto veramente tardi tre minuti sono imperdonabili ero stavo parlando le lezioni per domani e mi è scappata l'ora lo ammetto perdonatemi e oggi come vi dicevo ecco qua fabio appena arrivato oggi spero di avere finalmente lo so ridico tutte le volte ma almeno risolto i problemi di ieri mi ha saltato un amplificatore e non me ne ho accorto quindi confido che oggi vada tutto bene anche se ho riesaminato la puntata e devo dire che praticamente le uniche parti che mancavano erano quelle potremmo dire censurate quello in cui il nostro max gotti il nostro eroe di questa di questa simulazione aveva i primi approcci con le varie fanciulle che incontrava è stato un chiarissimo caso di censura e quindi oggi la puntata mi raccomando esplicita è dedicata al rapporto del nostro grognard con le donne fra l'altro il manuale ha tutta una parte dedicata molto chiara e anche in questo caso fortemente diciamo così storica per descrivere un po la donna nell'epoca napoleonica prima che andiamo a vedere appunto masco t e il suo rapporto con le stesse scusate per chi magari non avesse mai sentito questo sprando il giannistro nero è il podcast legato al gruppo facebook casus belli il podcast gruppo della principale di una delle principali associazioni di wargame italiane e cerca di coniugare gioco e storia e didattica e stiamo ripercorrendo la storia dell'epoca delle guerre napoleoniche attraverso un gioco che si chiama legion of honor della casa che dice clash of arms che simula per l'appunto la vita di un ufficiale in quell'epoca e con la nostra storia siamo arrivati all'incoronazione di napoleone 1804 e siamo arrivati a... il nostro protagonista nell'ultima puntata ha avuto i primi approcci con il cosiddetto sesso debole i primi approcci galanti fra l'altro mi aspettavo che max che è l'omonimo del nostro protagonista fosse già qui ma va bene purtroppo si è perso la puntata in cui si parla di aspetti appunto di chercher la femme come dicono i francesi adesso a parte le boutade oggi appunto parliamo di francesi quindi continuerò avanti così con questi francesismi continuativamente com'era comunque la situazione della donna in età napoleonica? in questo caso devo utilizzare il testo Blancati Pagliarani Nuovo dialogo con la storia e l'attualità quello che è utilizzato dal mio corso di scuola alle superiori alla scuola Fratelli Rosselli di Aprilia che è un testo adesso devo dire è uscita la nuova edizione che non conosco così bene ma che per quanto riguarda per esempio appunto l'attenzione ai cosiddetti women's studies cioè alla situazione della donna nella storia ha una serie di box di dossier devo dire ben fatti qual è la situazione della donna? intanto così capiamo anche quanto tutto sommato questo gioco con poche caratteristiche la simuli purtroppo perfettamente allora la situazione della donna sicuramente durante l'illuminismo ha avuto dei passi avanti anche importanti nel senso che iniziano a nascere salotti letterari in cui partecipano anche appunto le donne come lettrici ci sono i primi casi di scienziate quindi per esempio Sophie Germain che è la prima che praticamente riesce a seguire anche se è riservata sugli uomini una scuola tecnica una scuola politecnica a Parigi abbiamo figure come Gabriele Emile du Châtelet che anche lei è costretta a attraversarsi da uomo ma che è la prima probabilmente fisica di cui ci ricordiamo abbiamo la nostra Laura Bassi che è la prima che diventa docente a 21 anni pensate nel 1732 ottiene la cattedra di filosofia all'università di Bologna oppure parliamo anche di Maria Greta Nagnesi che anche lei dopo aver scritto nel 1748 l'istituzione analitica uso della gioventù anche lei ottiene a Bologna dopo Laura Bassi la cattedra di matematica esternaturale però sono mosche bianche mosche bianche anche perché sono uno dei frutti diciamo così belli dell'illuminismo per cui alcuni filosofi in ogni caso volevano sostenevano che il mondo sarebbe stato migliore con la parità fra uomo e donne e che le leggi che c'erano oggettivamente opprimevano e discriminavano le donne soprattutto c'era Jean-Antoine Nicolas de Condorcet che è il principale sostenitore di questi aspetti però ci sono anche altri grandissimi filosofi che ricordiamo peraltro come Rousseau come lo scrittore de la Breton che scrive libri licenziosi che invece erano assolutamente contrari a qualsiasi idea di uguaglianza che dicevano addirittura concedere diritti politici alle donne quindi vuol dire farle votare rendere uguale all'uomo portavano avrebbero avuto il caos le donne dovevano smettere di leggere secondo loro e limitarsi a stare a casa le donne fu uno grande protagonista dell'evoluzione francese enorme protagonista abbiamo la prima giornalista donna Madame de Brouamé abbiamo la rivoluzione viene vista non solo appunto come un passaggio politico ma anche come un modo per reclamare i propri diritti i propri diritti civili i propri diritti politici l'accesso all'istruzione l'ultima posso dire purtroppo l'ultima paladina di questo movimento si chiamava Olimpia de Gouget praticamente questa Olimpia fondò il club rimasta prestissimo vedo da 17 anni fondò il club delle tricoteuse lavoratrici a maglia era accompagnata a dire mogi con un ingegnere a Parigi e in questo club le lavoratrici appunto a maglia elaboravano le loro rivendicazioni e nel 1792 nacque la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina che cercava di ricalcare l'identica dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino uscita tre anni prima nonostante tutto ciò nonostante anche il moltiplicarsi delle attività a favore la convenzione nazionale nel 1793 rigetta questa dichiarazione e Olympiak ha fatto l'errore per lei di attaccare addirittura Robespierre Robespierre pensava che i diritti delle donne cioè che se le donne avessero avuto dei diritti paritari avrebbero destabilizzato la situazione si vendicò nel modo che prediligeva il 3 novembre 1793 se l'Olimpiade Gouget fu ghigliottinata a questo punto praticamente poi siamo nel pieno terrore quindi figuratevi i club vengono chiusi accusate di essere anti-rivoluzionari soppressi appunto i club femminili e quando si arriva infine al codice napoleonico praticamente forse ricordate scusami prima ancora che anche le le costituzioni col suffragio più ampio col suffragio universale erano comunque riservate ai maschi già detto nelle puntate precedenti e quando si arriva al codice napoleonico che riduce ulteriormente il suffragio che torna a farlo per censo eccoci che scusatemi oggi sono un po' imballato ma sarà la partenza in ritardo che mi ha messo in crisi il suffragio successivo quello per censo le tiene ovviamente fuori ma la stessa ristrutturazione napoleonica fatta col codice napoleonico annulla praticamente tutti i miglioramenti raggiunti anche dal punto di vista dei diritti e delle protezioni e quindi com'è la donna che sta incontrando come sono le donne che sta incontrando il nostro Maximilian Gotti sono purtroppo sono come le donne di due secoli prima il loro scopo fondamentale il gioco purtroppo lo descrive benissimo nella sua semplicità ecco perché il gioco può essere veramente un'arma straordinaria se ci riflettiamo sopra le donne servono per tre aspetti le donne in questo gioco hanno tre caratteristiche e sono tutte funzionali a come il loro uomo diciamo così le posso usare le tre caratteristiche sono lo charm quanto sono affascinanti e anche quanto sono diciamo così capaci di comunicare l'influenza quindi quanto di quanta famiglia il livello di potenza diciamo così della loro famiglia e quanti soldi forniscono di rendita eccole qua e cosa possono essere le donne in questo gioco possono essere due cose tre scusate all'inizio ovviamente sono fra virgolette libere cioè sono corteggiabili poi si possono corteggiare o per averle come mogli o per averle come amanti a che serve avere in un modo o nell'altro quasi per le stesse cose diciamo che per cosa ti aiutano avere una donna al fianco allora intanto può aiutarti facendo la carina con i superiori a richiedere che venga accettato il tuo trasferimento ovviamente ti fornisce la moglie ti fornisce aiuto economico ti cura ti cura quando sei in quando sei in ferito puoi nascondere i titoli lei per evitare i duelli se la donna è particolarmente influente può muovere la sua famiglia per far desistere l'altra persona che vi ha sfidato può aiutare a ricevere uffici se è molto bella ti dà gloria ti dà lustro e è un unico problema che devi mantenerla e quindi fondamentalmente sì lei porta le famiglie i soldi ma poi devi anche pagare tu per mantenerla quindi bisogna anche e più è affascinante influente e ricca e più ha bisogno di essere mantenuta la amante alla metà dei dei costi diciamo così della moglie triste fatto triste e felice non lo so però è drammaticamente una ricostruzione purtroppo chiara del ruolo della donna in questo periodo adesso torniamo oggi Max non si fa sentire e vabbè e noi andiamo avanti con Fabio che saluto e che è arrivato da noi andiamo avanti adesso torniamo nella nostra finzione e andiamo a vedere c'è un altro aspetto scusatemi del gioco che non faremo loro vorrebbero che questi tiri venissero rifatti ogni campagna perché magari il padre diventa più ricco si rovina eccetera noi tiriamo una volta sola per le signore che Gotti ha incontrato o che incontrerà e poi vediamo cosa succede teniamo conto che corteggiarle comunque costa non è qualcosa che viene preso sotto gamba costa molti soldi mantenerle costa molti soprattutto le amanti che non ti forniscono che non ti forniscono denaro a dimenticare un altro aspetto fondamentale se avete una moglie particolarmente affascinante e potrebbe piacere a Napoleone come avviene storicamente la cosa diventa assolutamente vantaggiosa per il vostro futuro da ufficiali ecco questa è la parte che mi hanno dimenticato benissimo ma torniamo nella nostra finzione se non sbaglio eravamo nel eravamo addirittura ai tempi dell'ultimo colpo di stato termidoriano e anzi scusatemi all'attentato nei confronti di Napoleone della notte della vigilia natale dell'ottocento in cui Max era stato notato Maximilien era stato il nostro protagonista era stato notato da una signora dell'altra società quando aveva aiutato Napoleone a salvarsi dalla terribile bomba esplosiva che invece aveva falcidiato una marea di persone in zona quindi cosa facciamo allora iniziamo a vedere come si chiama la signorina che lo ha osservato e si chiama Hortense il mio francese fa schifo vi avviso subito non abbiate problemi a correggermi perché veramente il mio francese è terribile questa Hortense allora vediamo lo charm hey man buongiorno c'è anche un ex studente che è venuto a ascoltarmi mi vergogno tantissimo ma comunque sia non so se ha sentito la parte iniziale e vabbè entrerà nel flusso dei discorsi al massimo ascolterà su youtube la registrazione ricordo che per sentire le vecchie puntate le trovo tutte su youtube cercando marco mengoli aspettando il giannizero nero non cercate marco mengoli e basta perché vi fanno vi mandano invece a sentire le canzoni di un noto cantante che è il mio quasi ononimo stiamo vedendo le tre signore che maximilian gotti il nostro protagonista può sedurre eccoci qua allora come charm Hortense a 5 siamo nella media vediamo il livello e la sua famiglia 8 beh questa ha parenti importanti ma vediamo se i parenti importanti vengono dalla nobiltà diciamo così dalle amicizie buone o anche da una buona base economica e tiriamo anche i soldi che possiede i soldi sono 5 non male ok come funziona il corteggiamento praticamente funziona in questo modo a cosa interessa la signora la signora interessa lo charm di maximilian i suoi soldi perché ovviamente non vogliono essere non vogliono non accettano diciamo così di essere sedotte di essere corteggiate siamo più carini da un da un poveraccio e il suo livello cioè qual è il suo rango ok qual è il suo il suo il suo buonanotte il suo rango appunto dell'esercito quindi fondamentalmente Maximilian Gotting nel momento della bomba esplosa aveva charm 3 soldi complessivi più o meno 60 quindi 2 5 ed era già diventato tenente quindi 6 beh non male insomma dai però da questo si devono togliere da questo si dovrebbe togliere 2 per lo charm della signora 3 perché è molto influente e 5 per i suoi soldi questa qua in questo rome Hortense non fuma minimamente il nostro Maximilian che quindi non ci prova neanche non conviene poi abbiamo un altro momento un altro momento in cui invece Maximilian si trovava se ricordate a cena da un magistrato il suo charme un poco stava salendo e e lì avrebbe incontrato la figlia del magistrato e vediamo se in questo caso qui invece poteva trovare qualcosa di qualcuno che lo considerasse insomma diciamo nel frattempo lui aveva imparato a scrivere poesie quindi aveva un po' lavorato insomma sul suo aspetto non era più il rosso sotto ufficiale iniziale la seconda fanciulla si chiama Eva il suo charm la figlia appunto di questo magistrato è 5 l'influenza del babbo così vediamo subito se il magistrato tutto sommato conta a Parigi o è uno di quelli che non si fila nessuno 8 stiamo facendo la copia di quell'altro magari sono sorelle e i soldi di Eva tiriamo sempre un numero di ci faccia sono 3 no non sono sorelle perché questi qui sono un po' più poveri di quegli altri allora anche in questo caso Gotti potrebbe provare a iniziare a avvicinarsi a sedurla però a corteggiarla scusate però fondamentalmente parliamo sempre di 4 punti di charm 2 punti per i soldi 4 e 2 e 6 e 3 punti per il rango quindi scusatemi 2 punti quindi 8 8 a fronte di una resistenza sua di 2 punti per lo charm c'è una tabella non mi sto rimedendo i numeri a caso più 3 punti per l'influenza più 3 punti per i soldi anche anche Eva lo guarda sopporta storicamente la cena con i papà e questo si rivedranno fra qualche mese in cui lui però non avrà il tempo di corteggiarla e poi dopo comunque sia si dimenticherà presto di questo ufficialotto che non l'ha colpita particolarmente e arriviamo invece al momento dell'incoronazione imperiale in cui Gotti è migliorato fortemente il suo char ha scritto altre poesie Gotti sta trovando una sua vena da poeta ha frequentato un po' i salotti buoni si è comprato il vestito nuovo per andare a assistere l'incoronazione inizia a essere un signorino con una certa eleganza non sfidato cioè anzi no sfidato da duello perché continua a non sapere tenere in mano né una spada né una pistola ma comunque sia quantomeno in altra società inizia a sapere stare e vediamo se a questo a questa incoronazione ci può essere un incontro diciamo così fatale tiriamo per la terza ragazza incontrata che si chiama Yvette vediamo il suo charm 3 meno appariscente degli altri vediamo la sua influenza 1 in ultima fila dove sta Gotti si sono incontrati perché appunto cosa volete che e vediamo i suoi soldi 3 siamo veramente a un livello abbastanza basilare Gotti proverà a sedurre la fanciulla o inizierà o preferirà soprassedere ma tutto sommato visto che questa è anche abbastanza abbordabile potremmo quasi pensarci quindi giusto per vedere come funziona nel gioco a questo punto qui è il punto in cui ci siamo lasciati l'ultima volta se vi ricordate Napoleone sta venendo incoronato e Gotti incontra questa Yvette per l'appunto probabilmente è una discendente di una neonobiltà di provincia sorte dopo la rivoluzione francese pseudonobiltà ovviamente siamo tutti cittadini ma insomma da quello che conta sembra essere non so la figlia di un industriale neanche troppo elevato comunque sia i due si vedono e Gotti a questo punto qui per non prendere nulla sul serio e per testare meglio il sistema potrebbe quasi quasi proporle di diventare intanto almeno la sua amante tanto conosciamo il tipo Gotti non è per ora uno che si impegna ma intanto vediamo come funziona il sistema allora prima cosa si prende complessivamente i valori del nostro grognardo del nostro sotto ufficiale si prende il suo charme che adesso è 7 Gotti è un poeta i soldi complessivi che in questo momento sono 82 quindi valgono 3 vanno divisi per 25 e quindi 7,3,10 e il rango un punto ogni super sergente quindi è tenente altri due punti quindi siamo a 12 per Gotti la ragazza la ragazza Yvette ha charme 3 che vale un punto influenza 1 che vale un punto e soldi 3 che valgono 3 punti quindi bisogna togliere 5 al tiro di Gotti quindi 12 meno 5 fa 7 se riusciamo a fare 7 o meno col dado scusatemi Gotti cazza i soldi perché bisogna comunque abbassare i soldi di 5 perché è costoso comunque corteggiare qualcuno però se sta per partire probabilmente per la campagna ci sono 20 di guerra si è riformata la coalizione non è facile la situazione e Gotti ha bisogno di avere qualcosa di più stabile delle avventurette delle avventurette momentane avute anche con parenti di Napoleone precedentemente tiriamo questo 7 o meno e vediamo cosa succede 10 perfetto questa qua non se la fila minimamente però segniamo che ha fatto un tentativo si chiama ardore e diciamo così la prossima volta avrà un bonus di 1 quindi la signorina ha detto si si che bello l'incoronazione che bel vestito che hai scrivi poesia interessantissima portami fuori a cena e poi è tornata a casa e Gotti niente peccato Gotti ma in fondo è meglio Max Milien non è con noi oggi e quindi siamo siamo più liberi insomma di giocare e di scherzare a questo punto qui abbiamo finito la parte diciamo così sul sesso debole e torniamo ad approfondire la nostra situazione storica che stiamo seguendo attraverso il gioco dunque Napoleone è stato incolonato e come ricorderete sta raccogliendo un enorme esercito nel nord presso la Manica perché sta progettando l'invasione via mare dell'Inghilterra e prima però vuole finire vuole e vuole mettere tutto quanto vuole sistemare tutto quanto prima del punto di poter andare di poter andare a trafessare la Manica e a combattere il nemico di sempre quindi intanto già che c'è ormai gli piace prendere le corone scende in Italia l'anno dopo nel 1805 il 26 maggio viene incoronato re d'Italia cioè fa rinasce una corona che non esiste praticamente più anche questa ai tempi di Carlo Magno quindi continuiamo a seguire praticamente le linee del vecchio del vecchio monarca che rimane il suo modello principale e ovviamente non può stare lì e affida il comando a un parente ricordiamoci che Napoleone è corso ha un sangue più italiano quasi che francese i tre anni pensano prima alla famiglia e continuerà a piazzare in giro familiari più o meno vicini ci ricordiamo che ha sposato la Creola Giuseppina una delle coppie più note della storia dell'umanità Giuseppina creva già figli da un precedente matrimonio e quindi uno di questi figli Eugenio di Boarnet diventa in sua vece il re d'Italia e può continuare a ragionare su come mettere a tacere scusate il nemico storico appunto l'Inghilterra allora intanto che succede in primo luogo perché si sta raccogliendo questo esercito ricordate che come va finita la guerra fra Francia e Inghilterra 1802 scusatemi trattato di Amier ok i britannici devono ridare Malta ai cavalieri di San Giovanni e nel frattempo le antille francesi diventano francesi e Silon passa all'Inghilterra anche se non era francese ma era batava ma non importa insomma l'importante è che tutti quanti si scambiano le cose e tutti possono dire che hanno vinto sembra un po' come quando passano le elezioni no? che hanno vinto tutti dopo le elezioni comunque sia gli inglesi non accettano di ridare Malta ai cavalieri di San Giovanni allora praticamente Napoleone cosa fa? inizia a ordinare navi francesi fra quello che si faceva già anche il secolo prima con le navi di corsa assegno ai capitani armati della mia nazionalità l'autorizzazione ad andare a fare disturbo sabotaggio eventualmente anche furto alle navi inglesi Mediterraneo e Atlantico e nel frattempo iniziamo a prepararci per un attraversamento della manica e un'invasione inglese la Gran Bretagna non prende molto bene la situazione ovviamente deve trovare una mossa difensiva a questo punto visto la mobilitazione di forze e la Gran Bretagna non fa altro che ripetere quello che era provato precedentemente cioè fare un'altra coalizione avvisando le potenze europee che la Francia è troppo forte la Francia non rispetta i diritti internazionali Napoleone nel frattempo ha fatto fuori anche il Duca declet come detto l'altra volta e quindi non è una personaggio di cui ci si può fidare e quindi chi prende la Francia prende tutte le grandi potenze europee tranne una cioè l'Austria e chi prende scusatemi la Gran Bretagna tutte le grandi potenze europee tranne una l'Austria entra la Russia entra la Svezia entra il regno di Napoli che è riuscito a rimanere indipendente rispetto alla prima situazione diciamo così napoleonica così come lo stato della chiesa che anzi aveva avuto un'alleanza diciamo così concordato con la Francia quindi la Francia dopo la seconda campagna d'Italia controllava solo il nord Italia a differenza di quello che faceva dopo la prima campagna d'Italia comunque sia Austria Russia Svezia l'Unione di Napoli e Gran Bretagna iniziano danno vita a una terza coalizione antifrancese che nasce nel maggio del 1805 la Gran Bretagna fa come le altre volte sovvenziona ma si muove poco di tutte le potenze europee l'unica che ne rimane fuori è quella che è un po' più ingessata quella che ha l'esercito avuto sommato comandato dai dai comandanti un po' più anziani quella che campa ancora sulla gloria del secolo prima ma quella che a breve poi diventerà la Germania quindi rimane fuori da questa coalizione la Prussia e poi vedremo come sarà importante per il prosieguo della storia benissimo già che ha messo assieme questi comunque la Gran Bretagna ha fatto un grandissimo lavoro perché c'era gente che non si potrebbe vedere Francesco II d'Asburgo che poi diventa Francesco I d'Austria per esempio non può vedersi con lo zara di Russia Alessandro I è un giovane quindi con l'arroganza tipica dei giovani praticamente si presenta già come adesso ci penso io non riuscite a tenere buono questo anerottolo manco francese che non sa parlare eccetera ma arrivo io e risolvo tutto come vedremo fra poco risolve il giusto perché per esempio il fatto che in Austria abbiano un calendario che è quello gregoriano e in Russia non abbiano il nostro calendario che è quello giuliano e quindi ci sono due settimane di differenza non se ne ricorda nessuno e quindi già appena parte la campagna napoleonica i russi dicono arriviamo quel tal giorno tutti lo aspettano in realtà secondo il conto dei russi devono arrivare due settimane dopo questo per dire che cos'era la guerra dell'ottocento a noi che sembra di essere in un mondo invece in cui tutto è tarato al centesimo al centimetro e tutto bene comunque sia in un'Europa che inizia ad avere nuovamente venti di guerra io vi ringrazio per chi c'era ringrazio William che insomma spero comunque si sia passato questi venti minuti con noi che l'abbiamo tirato un po' fuori dalla quarantena ringrazio Fabio che c'è sempre ringrazio chi ci ascolterà in futuro e l'appuntamento è ormai per domani l'orario ormai è sempre quello attorno alle 18 c'è la trasmissione a volte ce n'è qualcuna in più che inizia prima altre volte altre volte invece ce n'è una sola come in questo caso ma la trasmissione scusatemi ho detto una stupidaggia 1745 la trasmissione si chiama aspettando il giannizzeronero perché alle 18 e 30 inizia il giannizzeronero appunto la trasmissione del caso sbelli con il dottor professor Mauro Faina noi aspettiamo quindi siamo prima di loro iniziamo più o meno alle 17 45 poi andate sempre sul gruppo facebook di casus belli per vedere se ci sono cambiamenti nel palinsesto o ci sono altre situazioni comunque al 90% ci sentiamo domani tanto siamo in quarantena dove volete che andiamo grazie ancora prestati con noi spero la pronta sia stata interessante anche se forse non è quella che vi aspettavate grazie di cuore e alla prossima volta ciao con la sigla ciao ciao ciao